A pochi giorni dalla nomina del nuovo Papa, la rivista Formiche, in collaborazione con Luis Guido Carli, ha organizzato un seminario volto a riflettere sulle sfide che aspettano Papa Francesco, che ha appena raccolto da Benedetto XVI l'eredità di guidare la Chiesa. Credo che la prima grande sfida è quella di proseguire nella risoluzione del grande problema che è davanti a noi, e cioè la società vive un momento in cui bisogna ripensare il nuovo sviluppo sociale, già indicato nella Caritas in Veritate del Papa Beccolo XVI, ma che non ha ancora trovato soluzioni dopo l'ecciusiasmo di accoglienza. La Chiesa deve avere coscienza e consapevolezza di essere davvero un dono per gli altri, un dono per tutta l'umanità. E questo comporta anche un momento di profonda verifica. I gesti che abbiamo visto di Papa Francesco sono, a mio parere, molto significativi per sollecitare, invogliare e soprattutto incoraggiare la Chiesa a sentirsi parte viva del successo concreto e di esistenziare le nostre comunità cristiane. La vera sfida è l'annuncio del Vangelo oggi, quindi la capacità di portare il messaggio di Cristo nelle strade dell'uomo di oggi, quindi in questo senso anche il nome è un programma. Il Papa argentino, già dalla scelta del nome del Santo di Assisi e dal rifiuto della Croce d'Oro, sembra voler recuperare sobrietà e povertà, ma più che i segnali esteriori sarà il suo operato a parlare per lui. Certamente il Papa ci sta richiamando all'essenzialità, alla sobrietà, ma credo che questa sia la via per raggiungere obiettivi molto più grandi perché il vero obiettivo è quello di aiutare che ogni nostro fratello, ogni uomo dovunque viviva, ogni sua situazione possa trovare in questo momento storico comunità con le quali condividere e soprattutto essere accolti e soprattutto direi essere aiutati a vivere questo tempo con speranza e con fiducia perché la presenza della Chiesa, dove c'è la Chiesa, deve essere speranza per tutti. Con Papa Francesco c'è sicuramente una svolta rispetto al ridurre il peso di tutte le cose superfule, però non credo che vada interpretato in una chiave pauperista. Credo che l'accento del suo papato sarà incentrato sui valori della misericordia e della preghiera come giusto che sia per il capo di una comunità spirituale qual è la Chiesa Cattolica. L'altro dato interessante del nome Francesco è il valore della pace, quindi del dialogo interreligioso. Credo che anche su questo nei prossimi mesi vedremo un pontefice molto impegnato. speriamo con successo.